Tutti i rami che partono allo stesso punto, quindi hanno una forma a candelabro. Quindi questa forma a candelabro, questa capitozzatura, serviva sia per creare alberi che poi ad essere maggiore ombra al bestiale, e anche perché le fasche venivano date agli stessi animali. Ovviamente ora negli anni quest'anno, questa qualità culturale si è aperto, il bosco si è molto insuffito, però questi alberi a candelabro sono diventati monumentali. Allora, quello è un faggio monumentale, vediamo come quella caratteristica buona a candelabro. Qui dietro di noi abbiamo un archero di monte, un'attività di 4 metri, qui abbiamo un'attività di faccia, quindi si presenta veramente come un posto delle fiabe, perché non ci sono molte realtà, che hanno molte realtà forestali, che se le tendano questi vittanti altri avevano stati montati all'interno di un ferro nel centro, un strano e conto ogni paura del mondo, di un'attività di 4 cento, tra faggia, cervis, ceris, ageri, feri, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.